L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola ha disposto l'esonero del canone unico a fine giugno 2021 e la proroga automatica delle concessioni di suolo pubblico ad Agropoli per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Con apposito atto di giunta comunale su proposta dell'assessore Roberto Mutalipassi è stato deciso l'esonero del canone unico fino a fine giugno dell'anno in corso e stabilito per i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di concessione o autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico scadute il 31-12-2020 la proroga alle medesime condizioni fino al 31-12-2021 delle autorizzazioni e concessioni già rilasciate nell'anno 2020 e scadute al 31-10-2020. I titolari che volessero apportare modifiche rispetto all'occupazione di suolo pubblico possono presentare apposita istanza all'ufficio SUAP, all'indirizzo suap.pec.comune.agropoli.sa.it utilizzando la modulistica presente sul sito internet istituzionale del comune di Agropoli www.comune.agropoli.sa.it